Il ministero profetico apostolico della Bibbia del missionario Ewald Frank Il missionario Ewald Frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni Egli è conosciuto per aver pubblicato differenti libri, trattati, programmi radio e televisivi Il suo genuino insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di Dio intorno al mondo Cari amici, è il fratello Frank che vi parla dal centro missionario di Krefeld, Germania Sono molto riconoscente per questa opportunità di essere nella vostra nazione, città, persino in casa vostra Dio mi ha dato una chiamata diretta e un incarico Per predicare la sua parola e di andare di città in città e da una nazione all'altra E i passati 40 anni li ho usati nel ministero in più di 130 nazioni Ed ora il Signore ci ha dato l'opportunità di parlarvi direttamente in questa maniera Voi potete rimanere nelle vostre case e vedere e udire quello che Dio ha promesso nella sua parola E ciò che accade proprio ora Noi chiamiamo questo tema ministero profetico apostolico E parliamo specialmente in merito al ritorno di Cristo E naturalmente la necessità di rimettere tutti gli insegnamenti al loro posto In merito alla Deità, in merito al Battesimo in acqua, in merito al Battesimo con lo Spirito Santo In merito alla Cena del Signore, in merito alla Nuova Nascita, in merito a tutto ciò che è scritto nelle Sacre Scritture Poiché, cari fratelli e sorelle, cari amici Noi viviamo in un tempo in cui possiamo avere molti, molti temi Possiamo parlare della Nuova Nascita e non avere l'esperienza ad essa Possiamo parlare del Battesimo con lo Spirito Santo e non avere l'esperienza Noi possiamo parlare in merito a molti temi Tuttavia, ciò di cui abbiamo bisogno è la Rivelazione Divina E dobbiamo partecipare a tutte le benedizioni che Dio ci ha dato nel Nuovo Patto Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore Il quale ha detto in Matteo, capitolo 26, dal versetto 26 Questo è il sangue del Nuovo Patto che è sparso per molti Questi molti sono sempre coloro che lo ricevono Come quando il nostro Signore ha detto in Giovanni, capitolo 20, dal versetto 21 Come il Padre ha mandato me, così io mando voi E poi egli soffiò su di loro lo Spirito Santo Dando loro potenza, dando loro l'unzione dello Spirito Santo L'autorità divina per predicare il Vangelo di Gesù Cristo E poi egli affermò A chi rimetterete i peccati, gli saranno rimessi E a chi li riterrete, gli saranno ritenuti Questo viene frainteso Perciò noi dobbiamo riportarlo nella scrittura E vedere ciò che l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Paolo Quali erano gli insegnamenti nel Nuovo Testamento Noi possiamo andare nella prima predicazione Dove l'Apostolo Pietro ha riassunto tutto ciò che era stato detto nell'Incarico In Matteo, in Marco, in Luca, in Giovanni Dicendo sempre quello che la scrittura aveva già detto Predicando il Vangelo E allo stesso tempo annunciandolo Ravvedetevi ciascuno di voi E siate battezzati nel nome di Gesù Cristo Per la remissione dei vostri peccati E voi riceverete il dono dello Spirito Santo Cari E' così importante Di non prendere solamente un passo della scrittura Ma di prendere ogni passo della scrittura Che concerne lo stesso tema E in seguito Andare da lì E scavare abbastanza a fondo Affinché possiate conoscere la verità E la verità vi farà liberi In Romani capitolo 16 Versetto 24 L'Apostolo Paolo riassume Quello che egli aveva scritto ai credenti Dicendo La grazia del nostro Signore Gesù Cristo Sia con tutti voi Amen A colui che può fortificarvi Secondo il mio Vangelo Secondo il mio Vangelo E il messaggio di Gesù Cristo Conformemente alla rivelazione Del mistero Che fu tenuto nascosto Fin dai tempi più remoti Gli uomini di Dio Nell'Antico Testamento Che avevano profetizzati In merito alla grazia Investigavano Cercando di scoprire Quando sarebbe stato Questo tempo In cui le cose Che essi avevano profetizzato Si sarebbero adempiute Gli Apostoli Nel Nuovo Testamento Hanno mostrato Come la grazia di Dio È stata manifestata In Gesù Cristo Il nostro Signore Mosè Nell'Antico Testamento Fece una preghiera Oh Signore Se ho trovato grazia Agli occhi Tuoi Fammi conoscere Le Tue vie Quello che abbiamo bisogno Di conoscere oggi È il piano di Dio Nel tempo della fine Noi siamo arrivati Alla fine Del tempo Della grazia Sebbene nessuno Conosce il giorno Nell'ora Ci viene detto In Matteo Capitolo 24 In Marco Capitolo 13 In Luca Capitolo 21 Che noi avremmo visto Le cose promesse E predette E quando vediamo Queste cose Allora Alziamo i nostri capi Alziamo lo sguardo Perché la nostra Redenzione È vicina Parlando della Redenzione Del nostro corpo La redenzione È stata in realtà Compiuta Sulla croce Del Golgotha Anima Spirito E corpo Il prezzo È stato pagato Ma l'anima È già stata Redenta Abbiamo ricevuto La vita eterna Tuttavia Aspettiamo Il mutamento Del corpo Lo spirito È mutato L'anima A vita eterna Ma questo corpo Il corpo mortale Deve essere mutato Nell'immortalità E ciò Avrà il luogo Al ritorno Di Cristo È come certo Che il suo corpo naturale Fu mutato In un corpo Di resurrezione Così il nostro corpo Naturale Al suo ritorno Sarà mutato In un corpo Di resurrezione In un corpo Glorificato E noi Lo vedremo E saremo Simili A lui Questo È ciò che Giovanni Ha scritto Nella prima epistola Di Giovanni Capitolo 3 Dal versetto 1 Al versetto 3 L'apostolo Paolo Ha parlato Al riguardo In primo corinzi Capitolo 15 Specialmente dal versetto 43 Al versetto 49 E poi proseguendo Nei versetti 50 e 51 Dove egli dice Che non tutti morremo Ma tutti saremo mutati Ora è il tempo di Dio Per restaurare tutte le cose Nella chiesa di Gesù Cristo Come erano al principio Noi non possiamo fare compromessi E come potete vedere Ho qui il catechismo Moltissime pagine Un grosso libro Ma ho Anche questo libro Che chiamerò Il libro dei libri L'unico libro Sulla terra Che ha La scrittura Di Dio Come conferma Di Dio Nell'antico testamento Furono fatte Tutte le promesse E nel nuovo testamento Sono giunte A compimento In questo libro Degli uomini Hanno scritto Quello che loro pensavano In questo libro Sono espressi I pensieri di Dio Come io esprimo I miei pensieri Per mezzo Delle mie parole Dio esprime I suoi pensieri Per mezzo Della sua parola E perciò Un vero credente Prenderà Posizione Solamente Per E nella Parola di Dio Ma qui Forse c'è Una lezione Che tutti noi Abbiamo bisogno Di imparare In Matteo Capitolo 4 Il nemico Venne Diverse volte Del nostro Signore Dicendo Se tu sei Il figlio di Dio Allora Di a queste pietre Di diventare pane Se sei Il figlio di Dio Allora Di Se sei Il figlio di Dio Allora Di Cari Satana Viene Con la parola Ma la prende Sempre fuori Dal contesto Egli la Espone La interpreta In modo Errato E L'applica In modo Errato E perciò Noi dobbiamo Fare attenzione Non chiunque Dice Signore Signore Entrerà Nel regno Di Dio Non chiunque Nella cui bocca C'è La parola Di Dio Dice La verità Deve essere L'originale Parola Di Dio Non soltanto Un'affermazione Qui È un'affermazione Là Vi do un esempio Affinché sappiate Ciò che intendo dire Cari fratelli e sorelle Cari amici Passiamo al grande mandato E noi dobbiamo Iniziare Con l'ABC Sapete A me piace Parlarvi Direttamente In merito Al libro Dell'Apocalisse In merito Alle cose Scritte Là Che per noi Sono molto Importanti Da sapere In realtà Ho scritto Un libro In merito Ai 22 capitoli Dell'Apocalisse E' così importante Conoscere i simboli Che esprimono Qualcosa Sapete Se leggete I primi quattro Suggelli Vedete Un cavaliere Il successivo Il terzo E il quarto Ma loro tutti Rappresentano qualcosa E poi Nel quinto suggello Non vedete più Alcun cavaliere Quattro Sono sufficienti Ma questi quattro Hanno un significato Poi Voi leggete In merito A tutte le altre cose Nei differenti capitoli Dell'Apocalisse Tuttavia Cari Noi dobbiamo Iniziare In modo corretto Dobbiamo venire Al Signore Avere la nostra Propria Relazione con Lui La nostra comunione Dobbiamo essere Riconciliati Con Dio Dobbiamo conoscere Gesù Cristo Come nostro Personale Salvatore Il ravvedimento Deve venire Sopra di noi Il che viene soltanto Quando lo Spirito Santo Ci compunge Quando la parola di Dio È predicata Allora lo Spirito Santo Ci convince C'è di peccato Innanzitutto Di incredulità Secondo Di giudizio Terzo Di giustizia Voi potete leggerlo Specialmente In Giovanni Capitolo 14 E capitolo 16 E capitolo 16 E anche continuando Che quando lo Spirito Santo Sarebbe venuto Ci avrebbe condotti In tutta la verità Mostrandoci persino Le cose future Cari È così importante Ma dobbiamo iniziare In modo corretto Dobbiamo avere L'accesso personale A Dio E alla sua parola E soltanto allora I misteri Che si trovano Nelle scritture Ci saranno rivelati Come abbiamo detto Molte volte Il fraintendimento Prevale Come quando leggete Luca capitolo 16 Versetto 16 La legge e i profeti Hanno durato Fino a Giovanni Da quel tempo Il regno di Dio È predicato In un posto Voi leggete Cristo È il termine Della legge E poi I romani capitolo 7 Leggete Che la legge È spirituale Per colui Che comprende Il significato Di ciò Nella mia nazione Potrebbero esserci Così tante leggi Quante ne desiderate Io non sono mai venuto A sapere Di una sola legge Perché vivo nella grazia Io osservo la legge E perciò Non ho bisogno Di apparire In un tribunale La legge Della mia nazione Non si applicherà Mai a me Perché io vivo Non sopra La legge Ma nella legge Tuttavia Non per il fatto Che qualcosa Me lo fa fare Ma volontariamente Io vivo Secondo Le regole Tuttavia Quando si arriva Alla parte spirituale Allora Noi tutti Viviamo Nella trasgressione Noi tutti Abbiamo infranto I comandamenti E la legge È data Per convincerci Delle nostre Trasgressioni La legge È data Per portarci In giudizio E la grazia È venuta Per portarci Fuori Dalla prigione La legge Ci ha messi In prigione Perché eravamo Colpevoli E la grazia Ci ha portati Fuori Dalla prigione Noi dobbiamo Comprendere Queste cose Così Se l'apostolo Dice Che la legge È spirituale Allora Comprendiamo Quello che significa Non è Per questo O per quello Ma essendo Convinti Di trasgressione Essendo convinti Che eravamo Tagliati fuori Da Dio Separati Da Dio Abbiamo Trasgredito In molte maniere Ed abbiamo Bisogno Della grazia Di Dio Abbiamo bisogno Di salvezza Abbiamo bisogno Di vita Eterna Non di una Religione Così ogni cosa Persino La legge Ha il suo posto La grazia Ha il suo posto I Vangeli Hanno il loro posto Il libro Degli atti Ha il suo posto Le epistole Hanno il loro posto Ogni cosa È divinamente Ordinata Nella sacra scrittura O per meglio dire È In ordine Divino Così Nei quattro Vangeli Noi troviamo Una descrizione In merito Al nostro signore Salvatore Dalla sua nascita Fino alla sua Ascensione Nel libro Degli atti Abbiamo L'instaurazione Della chiesa Del nuovo testamento Tramite L'effusione Dello spirito Santo Abbiamo il primo Sermone Predicato In atti Capitolo 2 Dove il battesimo È stato Amministrato Dove il ravvedimento È stato Predicato Ogni cosa È proprio Nel primo Sermone Così Ognuno che Predica oggi Deve Confrontare Se noi Insegniamo Quello che Hanno insegnato Gli apostoli Se battezziamo Nel nome Di Gesù Cristo Dopo che Le persone Hanno ricevuto La remissione Dei peccati Il battesimo In acqua Non rimette I peccati Il perdono Dei peccati Deve essere Predicato Nel nome Di Gesù Cristo Voi potete Verificarlo In Luca Capitolo 24 Versetto 47 Lì il nostro Signore dice Che la remissione Dei peccati Deve essere Predicata In tutte le nazioni Nel suo Nome Ecco In primo luogo La remissione Dei peccati È predicata Tramite il Vangelo Poi Quelli che credono In Gesù Cristo Come loro Personale Salvatore Ricevono Il perdono Dei loro peccati Secondo Ciò che ha detto Il nostro Signore E Pietro Con un discorso Molto chiaro Dice a coloro Che credono I vostri peccati Sono perdonati Ed egli ha dovuto dire Se non credete I vostri peccati Non possono essere Perdonati Perché Gesù Cristo È l'oggetto Della nostra fede Soltanto in Cristo Dio si è incontrato Con noi E soltanto in Cristo Noi possiamo Incontrarci con Dio E perciò Dio era in Cristo Riconciliando Il mondo Con se stesso Ed il sangue È stato sparso Il sangue Del nuovo patto È stato sparso Per la remissione Dei nostri peccati Così Il sangue Rimette I peccati E il battesimo È una conferma Che ci siamo Ravveduti Ed abbiamo Ricevuto Il perdono Dei peccati Perciò Noi siamo Battezzati Per la remissione Dei peccati Cari Tutte le cose Devono essere Comprese In modo corretto Anche Atti capitolo 2 Versetto 38 Poi Con questo Dovete andare In Atti capitolo 8 Dove le persone Avevano creduto E furono battezzate Voi dovete andare Con questo Nel capitolo 10 Dovete andare Nel capitolo 11 Dovete andare Nel capitolo 19 E dovete andare In Romani Capitolo 6 Dovete andare In Atti capitolo 2 Versetto 38 In tutti gli altri posti In cui è stato Predicato il Vangelo Dove le persone Hanno ricevuto Il perdono Dei loro peccati Dove sono state Battezzate Nel nome di Gesù Cristo E hanno ricevuto Il battesimo Dello Spirito Santo Molte persone Specialmente Nell'insegnamento Dei Gesù Solo Il cosiddetto Insegnamento Dell'unità Il quale Non è neanche Secondo la scrittura Loro credono Che il perdono Dei peccati È Nel battesimo No Non lo è Il perdono Dei peccati È nel credere Che Gesù Cristo Il figlio di Dio Ha sparso Il suo sangue Sulla croce Del Golgotha Per la remissione Dei vostri peccati E poi Voi credete E ricevete Il perdono Dei peccati E poi Siete Battezzati A causa Di ciò Così Ogni cosa Può essere compresa Nella giusta maniera Soltanto Quando Non la Collocate Su una sola Scrittura Come Chi si riferisce A Matteo Capitolo 28 Versetto 19 Senza andare In Marco Capitolo 16 Senza andare In Luca Capitolo 24 Senza andare In Giovanni Capitolo 20 E poi Senza portare Tutti questi passi E la scrittura Nel libro degli atti E non soltanto Nel capitolo 2 Ma anche Negli altri capitoli Per mettere Tutte le cose Insieme In modo corretto E questo È ciò Che dobbiamo fare In questo Ministero Profetico E apostolico Noi dobbiamo Prendere ogni Parola di Dio Non mettere Soltanto L'etichetta Su un passo Della scrittura Tutti possono Fare questo E come abbiamo Menzionato Satana Venne dal Signore Dicendo Sta scritto Tutti Possono venire E dire Sta scritto In Matteo Capitolo 28 Versetto 19 Ognuno Può venire E dire È scritto In Atti Capitolo 2 Versetto 38 Tuttavia Voi dovete andare Come ho già detto Nei quattro Vangeli E in tutti i posti Nel libro Degli Atti E dovete Continuare Con la lettera Ai Romani Ai Corinzi E andare Dritto Lungo il Nuovo Testamento Per comprendere In merito Alla Deità In merito Al Battesimo In Acqua In merito Al Battesimo Con lo Spirito Santo In merito Al Ravvenimento In merito Alla Nuova Nascita In merito A tutti gli insegnamenti Scritturali Dovete prendere Tutte le scritture Che appartengono Allo stesso tema E poi Avete Un equilibrio Comprendendo Quello che realmente Insegna La Sacra Scrittura Ora Lasciate che Riassumiamo E devo Sottolineare Che non possiamo Ritornare soltanto Ai giorni Della riforma O ai grandi uomini Che sono vissuti Dopo la riforma Che sono conosciuti Nella storia Della Chiesa E non possiamo Ritornare soltanto A cento anni fa Quando ebbe luogo Una nuova effusione Dello Spirito Santo Noi non possiamo Ritornare soltanto A quello che è accaduto Dopo la seconda guerra mondiale Che è stata La più potente Visitazione Che Dio Abbia mai dato Sin dai giorni Gesù Cristo Ed egli ha utilizzato William Branham Un uomo Mandato da Dio In modo veramente Speciale Per fare la breccia Per il risveglio Di guarigione E salvezza Che si è sparso Attraverso la terra Egli era l'unico Che io ho potuto Conoscere Nei primi anni 50 Che predicava La vera parola Di Dio Ed aveva Un ministero Profetico E apostolico Tuttavia Non possiamo Indirizzarci Soltanto a Lui Dobbiamo ritornare E investigare La parola di Dio Per noi stessi Per vedere Se le cose stanno Così o no Tuttavia Dio Ha utilizzato Lui In modo veramente Speciale Come nessun altro Sin dai giorni Della Bibbia Tuttavia Di nuovo Permettetemi Di dire Cari fratelli E sorelle Il tempo è giunto Di investigare Le sacre scritture E ritornare Ai giorni Della Bibbia Ai giorni Degli apostoli All'insegnamento Della Bibbia Alla pratica Apostolica Io credo Che questo È il tempo Di visitazione Di Dio E possa Egli Benedirvi Ed essere con voi Sarei lieto Di avere vostre notizie Nel nome santo Di Gesù Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti